Sequestro di beni da 6 milioni di euro per Calogero John Lupino, ex consigliere comunale di Mazzara del Vallo, arrestato nel 2019 nel corso dell'operazione Mafia Bet. Nel corso delle indagini i militari avrebbero accertato che l'ascesa imprenditoriale di Lupino nel mondo delle scommesse e dei giochi online sarebbe stata agevolata da esponenti dei mandamenti mafiosi di Castelvetrano e Mazzara del Vallo che obbligavano i vari esercizi commerciali del Trapanese ad installare le macchinette della società, pena pesanti ritorsioni. Chi invece accettava questo monopolio poteva godere della protezione delle famiglie pronte a punire chi, tra la delinquenza comune, prendeva di mira gli esercizi commerciali. L'attività economica di Lupino sarebbe stata sovvenzionata, come hanno poi accertato le indagini, anche dai familiari del latitante Matteo Messina Denaro. I beni sequestrati nelle province di Roma e Trapani sono costituiti da 10 società e relativi compendi aziendali, 6 terreni, 14 rapporti bancari, un motoveicolo, un cavallo da corsa, nonché denaro contante, titoli di credito e anche lingotti d'oro. Le indagini avrebbero accertato una sperequazione tra i redditi dichiarati negli anni da Lupino, da cui poi è stato possibile ipotizzare l'utilizzo di mezzi e risorse finanziarie illecite. Grazie.